a michael turchin michael era adesso allievo ufficiale al royal milita college di sandhurst oxford 9 giugno 1941 mio carissimo michael sono stato molto contento di aver ricevuto tue notizie avrei voluto scriverti prima di oggi solo che la mamma si è portata la lettera a birmingham prima che io avessi il tempo di darle qualcosa di più che un'occhiata temo di dimostrarmi un pessimo corrispondente ma sto diventando davvero stanco di tenere la penna in mano le lezioni sono finite giovedì e speravo di avere un po di tregua per riposare per fare un po di ordine in giardino prima che comincino gli esami finali giovedì corpus domini ma la pioggia ininterrotta mi ha impedito di lavorare fuori e un mucchio di lavoro extra mi ha impedito qualsiasi riposo simpatizzo con i pubblici ufficiali di recente ho trascorso la maggior parte del tempo abbozzando norme e regolamenti per trovarvi poi non appena stampati mille pecche e per essere maledetto e criticato da chi non si è sobbarcato questo lavoro e non cerca nemmeno di capirne gli scopi e gli obiettivi una guerra è abbastanza per un uomo spero che a te sarà risparmiata la seconda e così sia l'amarezza della gioventù sia quella della mezza età sono abbastanza in una vita provarle entrambe è troppo io ho già sofferto una volta quello che tu stai vivendo adesso anche se in modo diverso perché io ero del tutto inefficiente e poco militaresco e noi ci assomigliamo solo in quanto condividiamo una profonda simpatia e tanta comprensione nei riguardi del soldato semplice specialmente quello che viene dalle con te più condadine allora io non credevo che gli anziani soffrissero molto ora lo so posso dirtelo mi sento come un canarino zoppo chiuso in gabbia continuare con il vecchio lavoro di prima della guerra è una cosa che mi amareggia se solo potessi fare qualcosa di attivo ma eccomi qua sono di riserva permanente e come tale così impegnato da non poter fare nemmeno la guardia civile e non posso nemmeno uscire la sera per scambiare due bottute con un amico tuttavia tu sei la mia carne e il mio sangue e tieni alto il nostro nome è già qualcosa essere il padre di un giovane buon soldato sai perché tengo così tanto a te e perché tutto quello che fai mi tocca da vicino eppure dobbiamo sperare aver fiducia il legame tra padre e figlio non è costituito solo dalla consanguinità ci deve essere un po di eternitas esiste un posto chiamato paradiso dove le opere buoni iniziate qui possono venire portate a termine e dove le storie non scritte e le speranze incompiute possono trovare un seguito possiamo riderne insieme eppure hai visto il reso conto di maxwell l'ispettore dei tabacchi su quello che stanno facendo i commercianti all'ingrosso dovrebbero finire in prigione sotto sotto i commercianti sono tutti dei lati ma presumo che il vizio capitale inglese sia la pigrizia ed è alla pigrizia più che ad altre virtù naturali che dobbiamo il fatto di essere riusciti a sfuggire alle aperte violenze degli altri paesi in questo modo di oggi in questo mondo di oggi così feroce la pigrizia comincia quasi a sembrare una virtù ma fa paura vederne tanto in giro proprio adesso che siamo alle prese con il furor teutonicus la gente di questo paese non sembra ancora essersi resa conto che nei tedeschi noi abbiamo dei nemici le cui virtù e sono virtù di obbedienza e patriottismo superano le nostre nella massa la cui industria è circa dieci volte più sviluppata e che sono sotto la maledizione del signore guidati ora da un uomo ispirato da un diavolo pazzo vortigoso un tifone che fa assomigliare il povero vecchio kaiser al lavoro a maglia di una vecchietta ho trascorso gran parte della mia vita fin da quando avevo la tua età a studiare germanistica che in senso generale comprende inghilterra e scambinale c'è molta più forza e veridicità nell'ideale germanico di quanta la gente ignorante non immagini io ne ero molto attratto da studente quando Hitler penso si dilettava di pittura e non ne aveva ancora sentito parlare come reazione contro i classici bisogna cercare di scoprire il lato buon delle cose individuando il male vero ma nessuno mai mi chiama alla radio o mi chiede di scrivere un po scritto eppure credo di sapere meglio di molti altri qual è la verità a proposito del consenso nordico comunque in questa guerra io ho un bruciante risentimento privato che mi renderebbe a 49 anni un soldato migliore di quanto non fosse a 22 contro quel dannato piccolo ignorante di Adolf Hitler perché la cosa strana circa di ispirazione demoniaca e l'impeto è che non riguarda per niente la statura intellettuale di una persona ma riguarda la sola volontà sta rovinando pervertendo distruggendo e rendendo per sempre maledetto quel nobile spirito nordico supremo contributo all'Europa che io ho sempre amato e cercato di presentare in una giusta luce da nessun'altra parte detto per inciso era più nobile che in Inghilterra né più presto santificato e cristianizzato prega per me ne ho dolorosamente bisogno ti voglio bene tuo padre Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti